Ciao a tutti, benvenuti sul canale GiannardaSMR. Allora, questo sarà un video un po' diverso dal solito, sarà più un video chiacchieriggio. E prima di iniziare voglio mandare un saluto speciale ai miei sei abbonati, ovvero Traffo, Peppe D.C., Lady Trilli, Chiara Fanzup, Francesco Accorinti e Flameshark1908. Ciao ragazzi, grazie mille per sostenermi sempre. E se anche qualcuno di voi si volesse abbonare, mi farebbe molto piacere e riceverà contenuti speciali. Bene, e possiamo iniziare? Allora, questa volta ho pensato di portare una cosa che avevo promesso già da tempo e finalmente ho trovato il momento adatto per farla, ovvero I POKEMON Sì, ragazzi, dovete sapere che sono un grande fan dei POKEMON, tutt'ora lo sono, nonostante ho quasi 32 anni. Allora, io da bambino amavo molto disegnare e infatti, guardate qui, avevo creato un quaderno appositamente dove rappresentavo ogni POKEMON ed evoluzione, guardate I VISAUR, dove scrivevo il tipo, le mosse, l'altezza, il peso, la descrizione, tutto e il numero. Allora, io della prima generazione vi ho fatti tutti Guardate Effettivamente già li conoscete Quindi non mi dilungherò troppo Stessa cosa con la seconda generazione E arrivai E arrivai A disegnare Fino alla terza generazione Rumpo Rumpo Però ci sta una piccola novità al riguardo Chi si ricorda e mi segue da sempre ed è un grande appassionato o appassionata di POKEMON In un video che feci quasi due anni fa Accennai il fatto che Alcuni POKEMON li ricreai proprio io E infatti 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 Ho il quaderno dove ho tutti i miei disegni Di POKEMON Creati da me Interamente da me E ve lo voglio presentare Sempre da ragazzino ovviamente E li ho chiamati I NEW POKEMON E in questo caso New POKEDEX Ecco qua Questo è il primo Poi L'evoluzione Mi sono inventato anche i nomi e alcune mosse FLAGADOS FLAGESION Oppure TANQUILL L'evoluzione TANQUILL E infine PRAPTOQUILL Tipo fuoco Sono gli starter Che ho creato io Poi SQUALTER Tipo acqua SQUALTIUR L'evoluzione E la più bella Che mi piace che creai SQUALTIUR SQUALTIUR Poi Anche altri L'evoluzione Questo mi piace Si chiama ANTLY Una piccola formica La sua evoluzione TERMITIUM TERMITIUM Poi SCRABEUS SCRABIUM GLOUM VITERICH Un pokemon tipo veleno GLOUMI GLUMAND ZAMPLIUD E questo è tipo normale RUFFI ORAFFI FRACCI TURPIRFI Inoltre Non solo avevo creato I pokemon nuovi Ma anche Due tipi Nuovi Ovvero Tipo MISTERO E questo È il primo pokemon Tipo MISTERO OPIGNOL Pokemon Pipistrello MISTERO Che si evolve In OPEGIOAT Un altro pokemon ELETROL Che si evolve In ELETROSLAM E poi In MAGNETOSLAM L'altro tipo Che ho creato È il tipo Gelatina Gelatina E questo È uno dei pokemon Che si chiama LODO Tipo Gelatina E la sua evoluzione LODOX Tipo Gelatina Sempre Spero Vi piaccia Tra i più belli Che Ho creato Che mi piacciono Di più Allora C'è LIRTIF Un pokemon Ladro Ladrungolo Guardate Com'è bellino Con gli occhi Da ladro Vestito Tipico Da ladro Poi Poi Bajimon Tipo Buio TRIPPER Questo picco Tubolino Tipo Voltariuk Tipo Roccia Acciaio Che è Un Un Pokemon Roccialato Roccialato Anche questo Mi piace Tanto Muccarell Tipo Normale Si evolve In Muccamon Ed infine In Milcamot Guardate Come bellino Poi Ho creato Anche I pokemon Leggendari Dei draghi Ovvero Questo Tipo Elettro Poi Quest'altro Qui Tipo Fuoco E Questo Tipo Acqua E niente Ragazzi Spero che questo Video Sia stato Di vostro Gradimento Vi auguro Un Buon Nuovo Anno E ci vediamo Al prossimo Video Magari Chiacchiericcio O altro Anche Ciao Buonanotte 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 A Buonanotte Buonanotte Grazie a tutti